Allora De Luca tu no automaticamente dici tutte queste persone hanno fatto gli assemblamenti a lungomare no che stavano all'aperto perché io li faccio tanti polemici li faccio pure per esempio tutta la giornata e ora per esempio cioè tu guarda in un mezzo pubblico che come stai dicci ma s'ammafobata cadelo pamba Gabi che differenze vassi Andacca va Gabi delu tu si popa n'agiava